buongiorno a roberto pizzoli lista civica pistoli sindaco portotolo protagonista sindaco si torna in corsa si torna in corsa sono passati cinque anni cinque anni dove ci chiamavamo si cambia siamo diventati portotolo protagonista è un cambiamento che credo che la cittadinanza e anche fuori dai dei confini comunali ci sia percepita in questi anni come sono stati questi cinque anni da sindaco stati cinque anni non semplici sicuramente perché avevano dovuto insomma in cinque anni abbiamo trovato di tutto la tempesta vaia nel 2018 il tornado del 2019 l'acqua granda due anni di covi da guerra insomma l'elenco è abbastanza corposo con soddisfazioni però si è la soddisfazione più grande è stato trasformare l'emergenza e spesso e volentieri in opportunità perché ad esempio nel tempesta vaia dai fondi recuperati poi per i danni della testa vaia abbiamo trovato il modo di recepire otto milioni ad esempio per la verificazione delle lagune cosa che anni sono una decina d'anni probabilmente che si facevano interventi di questa portata tema storico quella delle lagune insomma si ma storie ripropone accompagnato ci ricordiamo che i diritti su di pesca tra grande conquista e 15 anni con la marcia a palazzo ceglio esatto con roberto pizzoli che all'epoca stava pure in consiglio provinciale e ancora ci sono e ancora ci sei sindaco cosa lascia pizzoli roberto roberto pizzoli sindaco a portofoli dopo questi cinque anni lascia un cambiamento secondo me soprattutto nelle persone l'obiettivo era mettere il cittadino al centro di quella che era l'attività amministrativa uscire da palazzo così è stato credo che poche cose tante cose si possono dire ma sicuramente non della mia presenza della mia vicinanza alla cittadinanza trovano un paese che si è consolidato dal punto di vista turistico maniera bruttica verde presenze in crescita costante percentuale altissima di crescita rispetto ad altre ad altre comuni chiaramente noi partivamo anche da poco però insomma il più 48 per cento che sia significativo trova un comune che è anche cambiato dal punto di vista dei servizi e credo che insomma il lavoro si veda si percepisca risultati che si mettono sul piatto della bilancia quando si arriva alle elezioni chiaramente devo anche dire che siamo anche abbiamo fatto con le risorse che avevamo a disposizione che erano poche fortunatamente abbiamo recepito qualche bando e qualche contributo però con le poche forze che un'amministrazione possiede ricordiamo insomma il nostro comune ha poco più di 9 mila abitanti ma 258 quadrati con tutti i servizi annessi e connessi e chiaramente la capacità di investimento è bassa un grande risultato è che nel 2018 avevamo 1.100 euro per capita di dipitamento quest'anno siamo arrivati a 400 se c'è qualcosa che dice io questa cosa l'ho fatta se credo ripeto è sicuramente il consolidamento a livello turistico già oggi siamo un comune turistico cinque anni fa era forse già ancora utopia parlarne oggi siamo un comune turistico e oggi abbiamo le nostre eccellenze nel mondo del primario riconosciute ovunque e sul versante lavori interventi strutturali gli interventi strutturali abbiamo puntato tanto sulle scuole abbiamo ripeto rincorso qualche emergenza abbiamo fatto alcune migliorie come il sui punti in particolare la passarelle galleggiante barricata tipo gli impianti sportivi le palestre il campo dei brunetti insomma mi rispetto per le possibilità a disposizione credo che abbiamo fatto dei risultati importanti un appassionato di caso in questi cinque anni il portotolle ha perso la sua squadra di punta però sicuramente ripeto per noi si è stato un grande dispiacere non aver più il delta io sono un dissoci fondatori della società quindi chiaramente aver perso il delta una grande è una grande delusione da un lato però il mondo sportivo portotollese vive e vive anche con tante società di diverso tipo tra i calcisti che è affiliate fgg e tutto il mondo sportivo che c'è intorno ricordo come portotolle anche l'anno scorso erogato 189 mila euro per quest'anno ha vinto il campionato ha vinto il campionato il portotolle scardo vari arrivato i play off e retorzato in camerini che comunque c'è una frazione di 500 abitanti fare la seconda va bene così ci risentiamo fra qualche minuto roberto pizzoli si ricandida dopo cinque anni e quando non si ricandida e presentare un programma famoso mitico programma cosa ha scritto roberto pizzoli e la cosa hanno scritto roberto pizzoli la sua lista in questo programma per i prossimi cinque anni se noi abbiamo fatto un programma molto realistico non abbiamo fatto il libro dei sogni come spesso e volentieri e soprattutto la politica anche di qualche anno fa portava in giro anche per le varie frazioni dove ognuno raccoglieva i desiderati abbiamo fatto un programma che sia fattibile un programma realistico dove puntiamo naturalmente soprattutto alle migliori infrastrutturali per quanto riguarda il mondo del turismo ricordiamo che dove passerà la triatica da noi ad esempio una delle grandi conquiste le migliorie sui puntili la visitazione le spiagge eccetera che comunque il traguardo vicino della demanialità delle spiagge che sono per noi dei risultati fondamentali quindi accompagnare il mondo appunto del turismo accompagnare quelle quel mondi economico sociali che sono importanti da noi e quindi la pesca e l'agricoltura attraverso azioni mirate di migliori e poi la cosa fondamentale sono i servizi la qualità di vita del cittadino se dico centrale nel se diciamo centrale e nel parliamo della riconversione del villaggio turistico della human company la fase di demolizione è ormai quasi quasi arrivata a capolinea penso che per ottobre novembre la demolizione sarà effettuata ci sarà la parte poi della bonifica il contraddittorio con l'arpa e contestualmente stiamo andando avanti con la parte urbanistica perché chiaramente 300 ettari che passeranno da industriale a ricettivo turistico la ciminiere e ciminiere ancora in fase di valutazione perché la cifra per abbatterlo per mantenerla è più o meno la stessa è chiaro che dovesse legato a un progetto che human sta valutando quindi insomma il prossimo sindaco carica a cui roberto pistoli si candida potrebbe essere quello che vede la realizzazione del futuro della centrale certo lo auspico e sono sicuro che entro i prossimi cinque anni vedremo sicuramente partire nuovo villaggio abbiamo detto centrale ma se parliamo di portatori non si può non parlare di pesca come rapporti con i pescatori rapporti pescatori sono ottimi devo dire che con il consorzio e le varie cooperative abbiamo raggiunto dei traguardi incredibili parlavo prima degli otto milioni per la vivificazione ma i 15 anni di detti esclusivi ma legati quattro milioni e mezzo di opere soprattutto quelle portuali ma anche il museo della pesca per rimanere nel tema sono oltre quattro milioni e mezzo recuperati tramite il flag tramite il famp e naturalmente con le casse delle municipalità ci stanno chiamando anche un po di soddisfazioni ma sono anche in barcellona a portare le vongole ma lo dicevo prima il delta del po portatori delta del po sono un po credo anche il traino di quella che è oggi la promozione anche del nostro poliesine legata chiaramente a delle eccellenze particolari non dimentichiamo neanche risici di la cozza dopo e la quella fungola appunto filippina che era più esportata in europa e l'ostrica rosa che chiaramente è uno dei nostri punti di forza oggi quindi la pesca per la pesca la vivificazione delle lagune all'inizio ci saranno altri passaggi poi c'è un problema di ingresso in porto una serie di problemi di come si cosa pensa di poter fare sei preparato direttore abbiamo la fortuna di avere comunque una trafilia amministrativa che parte dall'alto perché comunque governo regione provincia e comune sono allineate anche politicamente danno sicuramente una mano per quanto riguarda l'ingresso e le portualità soprattutto pila hanno necessità di opere infrastrutturali di cui stiamo parlando con il governo per quanto riguarda l'indicazione che più in capo alla regione dopo la carta itica che è stata approvata da poco stiamo vedendo gli strumenti per avere un'azione mirata e soprattutto continua nel tempo portatone una città comune strano ma c'è capiepolo che il capoluogo ma interpares con tutela non si può neanche parlare di frazioni insomma sono tutti i paesi che fanno parte di un comune i rapporti come sono c'è qualcuno che più buono rispetto ad altri qualcuno che si lamenta di più oppure il clima è buono diciamo che la frazione rispetto al capoluogo si è sempre lamentata un po di più storicamente perché naturalmente ha meno servizi rispetto alla frazione più grande che cattiepolo però anche vero che si parliamo lingue diverse in base ai posti che andiamo per via soprattutto delle attitudini della frazione passo a scaldovari e piglia che sono sul mare penso che a tempo in entroterra penso insomma tutte le varie isole che abbiamo però devo dire che il rapporto è sempre stato costruttivo abbiamo cercato di mie azioni mirate uno delle cose che abbiamo in programma è consulta delle frazioni proprio parlare anche ancora più voce le nostre frazioni ma soprattutto di mirare la riqualificazione dei centri frazionali in ogni campagna elettorale c'è il mitico giro delle frazioni come è andato è in corso devo dire che sono contanto il ritorno dal con la con la nostra gente è sempre positivo è sempre un confronto molto aperto ma anche molto corretto e io dico sempre solo dal confronto si può crescere grazie a roberto pizzoli candidato sindaco con la sua lista civica pistoli sindaco porto tolle protagonista l'ho letta perché non me voglio sbagliare alle prossime elezioni comunali in bocca al lupo sindaco grazie a voi viva il lupo è sempre un piacere grazie grazie a voi grazie a voi